Dal 24 al 30 settembre a Forlì Cesena torna la settimana del buon vivere. Fragile, trasportiamo il futuro e il titolo di questa terza edizione della settimana, voluta come sempre da Lega Cop, Forlì Cesena, Lilt e Irst. Una manifestazione nazionale sul benessere eco-sostenibile che quest'anno con i suoi 130 eventi è dedicata all'incontro tra generazioni e culture. Monica Fantini, Lega Cop, ci siamo che quest'anno parte la terza edizione della settimana del buon vivere. Tanto lavoro, ma insomma ne valsa la pena, un calendario ricchissimo di eventi. Anche quest'anno, il terzo anno, con tantissimi eventi, tantissima partecipazione, come abbiamo detto a questa conferenza stampa, veramente una comunità che cammina. Sono effettivamente oltre 130 i partner che insieme hanno costruito questa settimana che ormai è diventato l'anno del buon vivere, perché a differenza da un festival dove molte cose partono dall'alto e si esauriscono in quelle 4-5 giornate in cui si realizza, qui invece è un movimento di persone, di idee, di entusiasmo che durante tutto l'anno costruisce dei pezzi per poi durante la settimana fermarsi e raccontarli. Questa è veramente la forza di questa settimana, in cui sulla multigenerazione, sui generi, sulla multicultura sarà posta la riflessione, una riflessione a tutto tondo, con grande partecipazione e con 150 eventi più o meno in calendario. Ed ogni evento, sia del più piccolo che il più grande, ha dietro tante idee, tanto lavoro, tanto entusiasmo. Questa è la cosa che mi piace sottolineare. Anche quest'anno tantissimi volontari hanno aderito all'iniziativa. Sì, vabbè, quelli che noi abbiamo definito volontari del Buon Vivere, che sono i giovani del Buon Vivere, sono l'anima di questa iniziativa. Senza di loro non ci sarebbe la settimana del Buon Vivere. E questa è dimostrazione di quanto loro, e come è giusto sia, abbiano bisogno veramente di protagonismo. Perché, ripeto, in questa settimana tanto che è stato fatto parte dalle loro idee, parte dal loro entusiasmo e parte anche dalla loro visione nuova, di raccontare e di costruire il futuro, perché non ci dobbiamo dimenticare che il futuro sarà il loro oggi. Quest'anno anche tanti ospiti d'eccezione, ce ne vuoi anticipare qualcuno? Tantissimi gli ospiti d'eccezione. A partire dalla inaugurazione, in cui vi aspettiamo tutti, che è quella del 24, lunedì 24, con Daria Bignardi. E poi tanti altri, il Mercoledì della Cultura, con Gabriele Lavia, con Gita De Gregorio, sempre il mercoledì, così come Enzo Bianchi per la domenica, Monio Vadia, Vergassola per il venerdì, Spazio per la ricerca con Ferrari, che è un grandissimo spazio a livello mondiale, e tantissimi altri ancora. Sul nostro sito, così faccio lo spot, www.settimanadelbuonvivere.it, trovate tutto il programma aggiornato, e che viene dai nostri ragazzi continuamente aggiornato, anche con nuove cose, nuove idee, perché ci sarà questo BWOF, quindi questo spazio degli eventi nell'evento, che presenterà sempre sorprese. Nadia Masini, presidente della Lilt, Forlice Sene, anche quest'anno per la terza edizione, partecipate al grande evento, la settimana del Buon Vivere. Se non vi è dubbio, un evento che è cresciuto, credo che quest'anno la programmazione restituisca, come si è potuto realizzare, un'idea molto forte, valorizzare quanto di buono c'è in termini di benessere nel nostro territorio, ed è moltissimo. E quindi la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, insieme all'IRTE, insieme a Lega Coop, non a caso, fin dall'inizio, si è resa promotrice di questa iniziativa, e compartecipa alla settimana del Buon Vivere, con una serie anche di proprie iniziative. Oppure di iniziative, come il caso dell'incontro con gli studenti, come il caso della serata al Teatro Diego Fabri, con Mauro Ferrari, questo massimo esperto internazionale di nanotecnologie, sui temi proprio della prevenzione in campo oncologico, attraverso i corretti stili di vita da un lato, e attraverso la ricerca come supporto fondamentale per poter prevenire, ed eventualmente, quando dovessero insorgere malattie, poter intervenire con efficacia. Direttore Mario Tubertini, dell'IRST, anche voi, partner di queste iniziative, insieme a Lega Coop e l'ILT, il 28 sarà per voi una giornata speciale, cioè l'incontro con la salute? Sì, il 28 sarà una giornata molto importante, perché da Houston in diretta ci sarà il collegamento con un amico, oltre che un grandissimo ricercatore, che è Mauro Ferrari, matematico, poi ingegnere, e oggi ricercatore di uno dei più importanti centri di ricerca e di assistenza degli Stati Uniti, e in collegamento con Houston appunto si parlerà di ricerca, e si parlerà principalmente di ricerca sulle nanotecnologie, che sono una delle frontiere anche in campo oncologico, di quello che effettivamente potrebbe essere un futuro, speriamo molto più ricco di soddisfazioni ancora sulla cura appunto di queste malattie, e di questa patologia che sta purtroppo aumentando nel tempo. E quindi sarà una giornata, una serata di grande importanza, nella quale evidentemente dialogheranno insieme a Mauro Ferrari, il direttore scientifico del nostro istituto, che è il professor Amadori, e quindi penso sarà una serata di grande interesse. Fede Tinto di The Canter, Radio 2, anche quest'anno partecipate alla settimana del Buon Vivere, con tanti gli eventi ovviamente, vi chiedo, secondo voi, qual è il significato del Buon Vivere? Il Buon Vivere è uno stato mentale, prima di tutto. Poi noi non partecipiamo quest'anno, mannaggia, cioè ci saremo, saremo come uno spirito che alleggia su questa terra meravigliosa, perché con la radio faremo i collegamenti e on air diffonderemo tutto quello che viene fatto qua. Che cos'è il Buon Vivere? Il Buon Vivere è, ripeto, uno stato mentale che però deve essere alimentato da tutta una serie di situazioni che spesso ci dimentichiamo. Diamo per scontato che si può essere felici avendo cose, comprando oggetti, e poi non ci accorgiamo che non è vero. Si può essere felici, si pensa di essere felici raggiungendo un traguardo e ci dimentichiamo di tutto il percorso e di tutta la bellezza che si potrebbe vivere momento per momento stando attenti proprio ai singoli chilometri che si fanno prima di arrivare a tagliare il fattidico traguardo. Questa frenesia, questo consumismo, questo maledetto pil, ci ha completamente depistati. La Settimana del Buon Vivere serve a cancellare tutto, si fa un bel reset e poi restart. E allora si riparte, dopo aver cancellato tutto, si riparte. Per farlo però ci devono essere degli esempi virtuosi per poter poi disegnarsi realmente qual è il proprio concetto di felicità. Qualcuno lo cantava, l'aveva capito in tempi non sospetti, no? Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Cioè alla fine è quello nella semplicità, tutto che finisce con l'accento finale. Siamo a Forlì, anche Forlì c'ha l'accento e noi seguiremo la Settimana del Buon Vivere attraverso la nostra trasmissione Radio 2, De Canter, tutte le sere da le 19.50 alle 21.00, da lunedì al venerdì. Quindi per chi volesse capire che cos'è il Buon Vivere basta seguirci. Il Buon Vivere è la fiducia, bisogna avere fiducia. Per poter vivere bene, attento, ora ci cade qualcosa da, non hai visto? Fiducia, non è caduto. Noi ci siamo fidati, la fiducia, la fiducia è fondamentale. Per poter vivere meglio tu devi avere fiducia nelle persone con cui tu hai relazione. E le persone che stanno creando questo progetto meraviglioso della Settimana del Buon Vivere infondano fiducia perché dietro la Settimana del Buon Vivere c'è etica, estetica, cultura, ricerca, futuro e poi potrei andare avanti delle ore, tradizione, innovazione e ancora tante altre cose. Qui si crea il nuovo movimento, da qui parte il modello che sarà il modello vincente per il futuro. Si fanno importanti riflessioni perché dobbiamo cancellare il modello che ci ha portato verso il baratro. crisi vuol dire passaggio, alla fine del passaggio c'è una luce, ma quella luce che cos'è? Un precipizio o una splendida risalita? Se noi comprendiamo quello che ci ha insegnato, raccontato, condividiamo le nostre esperienze con altre esperienze positive possiamo sicuramente porre dei paletti che ci porteranno sicuramente a una luce, a una risalita meravigliosa. Poi che cos'è per voi il Buon Vivere? Ci potete mandare una foto a decanterchiocciolarai.it con un MMS, un allegato. Ditecelo voi che cos'è il Buon Vivere. Scusate, facciamo una cosa. Voi ci dite che cos'è il Buon Vivere, secondo voi. Potrebbe essere qualsiasi cosa, non per forza dovete rinnegare quello che avete fatto fino a ieri. Se siete appassionati di calcio e siete felici e pensate che il Buon Vivere sia il gol della vostra squadra, ditecelo. Magari su quello noi potremo fare delle riflessioni future. Decante Radio 2 su Facebook, la nostra community. Che cos'è il Buon Vivere? Fede Tinto. Io, a furia di frequentare questi, credo di averlo capito.